di società e di relazioni aperte che sono sia transgenerazionali che multiculturali e quindi per questo ripensare lo spazio pubblico a partire dalle comunità educanti è una straordinaria occasione per riflettere sulla relazione su come lo spazio pubblico del moderno oggi abbia la necessità di diventare soprattutto uno spazio comune l'altra riflessione molto bene breve è nella relazione tra la parola partecipazione e coprogettazione che sono state in realtà citate molte volte questa mattina si è parte si è parlato di come particolare mi riferisco nell'intervento del riferito al comune di milano di come includere i bambini e i ragazzi nella progettazione di queste nuove piazze scolastiche delle spazi davanti alle scuole la partecipazione sappiamo che ha preso soprattutto non solo attraverso una riforma ma anche ha preso spazio nella gestione dei processi urbanistici in Italia soprattutto negli anni 90 oggi con i patti di collaborazione ma non solo anche attraverso l'urbanistica tattica stiamo passando da un paradigma partecipativo a un paradigma che si lega più a quello della coprogettazione e quindi secondo me è interessante riflettere non solo su come coinvolgere i bambini ragazzi o le comunità all'interno del sistema di progettazione dello spazio pubblico davanti alle scuole dello spazio pubblico in generale ma anche pensare come lo spazio verrà utilizzato dopo cioè quali saranno le modalità di uso e quali saranno anche i conflitti che si possono generare attraverso un uso chiaramente un uso condiviso dello spazio e quindi come il patto di collaborazione il patto possa essere un processo più che un esito ecco e l'ultima cosa qui che vorrei mettere su cui vorrei porre l'attenzione e il rapporto tra temporaneità e permanenza di nuovo questa mattina più volte si è parlato di come gli interventi di urbanistica tattica abbiano in realtà questo anche questa caratteristica e questa potenzialità della temporaneità no innescano un progetto un processo scusate innescare un processo poi sorge sempre il che cosa ne è dopo no una volta che l'ho innescato questo processo deve avere una continuità una sostenibilità diciamo in maniera sempre più sempre più sovente no e quindi dalla temporaneità devono diventare permanenti ma siamo sicuri che la permanenza sia l'esito finale di questi processi o è una temporaneità che si ricostruisce e si ridefinisce nel tempo qual è la domanda qual è diciamo l'attenzione e quali tipi di uso ci suggeriscono questi spazi tra il temporaneo e il permanente ecco forse io di nuovo utilizzerei una parola che è uscita tante volte questa mattina quello dell'ascolto per farci determinate domande rispetto al nostro modo di leggere l'urbanistica le trasformazioni urbane che sono sempre o temporaneo permanenti ma forse c'è un tema di cambiamento e di transizione che molto spesso non viene tenuto in considerazione allora io chiudo qua con queste poche suggestioni e lascio la parola agli invitati grazie e farai cominciare l'architetto guarino che poi purtroppo deve andare via e poi diamo la parola agli aziendatori grazie a tutti io sono qui rappresentanza dell'ordine degli architetti di genova del quale sono vicepresidente e sono molto contento di esserci perché il nostro consiglio che tra poco meno di un anno andrà in scadenza un po' per storia personale un po' per caso si è trovata ad affrontare dei temi che hanno a che fare a vario titolo con la partecipazione per esempio il caso della demolizione delle lighe di Begato e la riprogettazione degli spazi collettivi ma qui invece parlando di urbanistica tattica vorrei fare alcune riflessioni brevissime legate proprio alla bellezza e alla necessità di questi processi in un momento storico in cui la società ha delle mutazioni di una rapidità che fino a vent'anni fa erano inimmaginabili quindi come dire la lentezza di pensiero e di burocratizzazione del concetto di appalto pubblico è messa pesantemente in discussione secondo me e un modo per mettere in discussione è testare gli spazi con progetti di urbanistica tattica che hanno secondo me un duplice scopo quello principale se volete che è quello di coinvolgere i soggetti, la collettività nelle scelte e quindi sperare ma molto spesso ci si riesce di generare il senso di appartenenza che fa città ma stimolare anche il mondo complesso, tutto quello che volete ma alle volte un po' arrugginito dell'appalto pubblico nel senso che c'è un tempo nel momento in cui si inizia io avevo pensato di dire altre cose ma sono state dette molto meglio di me da i professionisti che la fanno sul serio e allora faccio delle considerazioni un pochino a braccio nel momento in cui parte un progetto di sperimentazione di urbanistica tattica è stato molto ben espresso dalla collega di Milano c'è un tempo un tempo di sperimentazione e test che in buon senso vuole che sia quello delle quattro stagioni cosa succede quando si è messo a punto un progetto su una parte della città l'estate, quando piove, quando iniziano le scuole quando c'è il traffico natalizio insomma tutta una serie di fattori banali che condizionano eventuali scelte poi il tempo dei tre anni è un tempo ragionevolmente lungo affinché si possa mettere mano alla progettazione dopo l'anno di test e alla realizzazione di uno spazio secondo, come dire, dentro la cornice del codice degli appalti io rispetto a quello che al tema che poneva sul tavolo prima la collega in collegamento sono abbastanza un ortodosso cioè trovo che il compimento dell'esperimento di urbanistica tattica che può anche fallire però può essere poi valutato ricorretto e addomesticato secondo quello che è venuto fuori debba avere come compimento una soluzione permanente che non significa una soluzione costosa significa una soluzione che ha una sua solidità perché dico questo? perché è un tema scivoloso si potrebbe essere indotti a pensare che pitturare l'asfalto grigio sia un modo per risolvere la qualità delle città cosa secondo me assolutamente lontana dalla realtà cioè sappiamo esattamente che cosa non è l'urbanistica tattica non è questo quindi io lo vedo come processo molto interessante perché mette in gioco quello che diceva l'architetto Pier Santelli prima la formazione stessa dei nuovi architetti che arriva fino a un certo punto che ha bisogno di confrontarsi con altre professionalità perché la complessità banalmente linguistica, etnica di accessibilità non solo legata a differenti abilità ma anche a questioni proprio di cultura sono temi che l'architetto da solo non può governare e quale miglior palestra di sperimentazioni di questo genere ora se c'è pensiero se c'è quindi tutta la parte umanistica che io continuo a sostenere essere quella più importante nella nostra formazione che quindi guida i tavoli di partecipazione le scelte di urbanistica tattica se c'è questo pensiero forte non è così difficile poi tradurre in progetti a basso costo le istanze della collettività perché c'è c'è tutto un lavoro che è stato fatto quindi io vedo spazi milanesi che funzionano benissimo che hanno un'incidenza di costa al metro quadro che è veramente risibile rispetto alla media alla media dei progetti fatti in maniera tradizionale quello che e chiudo stiamo cercando di fare come ordine che è tutt'altro che facile e banale è che la politica stimolata dalla collettività dalla società incomincia a chiedere sempre più frequentemente percorsi di partecipazione e percorsi di coprogettazione di urbanistica tattica eccetera il nuovo codice e questo è stato è stato un grosso una grossa mancanza una grossa perdita se volete non prevede all'interno della cornice dei lavori pubblici la remunerazione e anche il tempo per mettere in pratica questi questi progetti quindi una cosa che stiamo cercando di fare e non è detto che non ci si riesca è quella come dire di dare una solidità burocratica amministrativa non burocratico a questi percorsi cosa che è in molti altri paesi comunitari mi dispiace siamo andati molto lunghi avrei partecipato con gioia a questo tavolo ma vi devo lasciare vi ringrazio tutti ringraziando Cristina che ha accettato questo spostamento del suo intervento darei la parola all'architetto Cristina Giusso della direzione urbanistica che appunto si sta occupando in prima persona del progetto Genova Street Lab che è il progetto di urbanistica tattica del comune di Genova e poi di conseguenza legherei se ce lo consenti se va bene per tutti legherei l'intervento invece di Giovanni Lanza del Politecnico di Milano proprio perché ha sullo stesso tema grazie perfetto grazie allora sicuramente tutti gli interventi devo dire che ci sono stati questa mattina sono stati di interesse sono anche stati di un utile confronto anche capire i diversi aspetti analizzati in percorsi in altre città di urbanistica tattica e le criticità noi stiamo come diceva la collega Elena Maranghi abbiamo avviato questo ecco noi abbiamo avviato da gennaio come direzione urbanistica ma in realtà come area sviluppo del territorio devo dire che appunto siamo un gruppo abbiamo fatto proprio un gruppo di lavoro su questo come direzione del territorio gestione del territorio quindi ci sono colleghi della mobilità colleghi dell'ambiente e poi vedremo meglio su questo ritorneremo e abbiamo avviato questo progetto che abbiamo nominato Genoa Street Lab proprio con il supporto scientifico del Politecnico di Milano che questa scelta è anche stata dovuta a delle metodologie che poi vi verranno illustrate dal collega Giovanni Lanza che di analisi del nostro territorio per arrivare a individuare interventi leggeri e reversibili appunto come quelli di urbanismo tattico negli spazi umani per migliorarne la vivibilità l'accessibilità insomma ne abbiamo già parlato un po' tutti questo tema che è uscito cioè che è emerso in quasi tutti gli interventi della multidisciplinarietà e del fatto di lavorare in su più livelli e su più aspetti in questo nell'urbanismo nelle attività di urbanistica tattica è sicuramente impegnativo è una sfida anche all'interno del nostro comune però come tutte le sfide anche molto coinvolgente speriamo appunto di procedere al meglio e faremo tesoro devo dire almeno io di tutti ho preso appunti di tutti gli spunti e le esperienze stamattina illustrate tanto una presentazione della città perché questa esperienza pilota come diceva anche l'assessore Masha prima è partita da San Pierdarena questa esperienza di urbanismo tattico ma poi vogliamo acquisire un metodo avere una guida e replicarla nelle varie parti della città questa è la città di Genova come vedete 243 km quadrati 34 km lineari da Voltri a Nervi è una città policentrica nata proprio da un'aggregazione fatta all'incirca cent'anni fa nel 1926 di 19 comuni e prima c'era stato un primo ampliamento a Levante alla fine dell'Ottocento e quindi è una città che ha tanti centri per certi versi in questo agevolata perché forse può essere un modo per raggiungere proprio studiando sui servizi quella città dei 15 minuti di cui spesso si parla proprio per migliorare anche le questioni legate alla mobilità e alla fruizione dei servizi eccetera e qui sugli abitanti siamo intorno ai 600 mila insomma questo vabbè è una vedete sopra i nove municipi in cui è diviso attualmente il comune di Genova il municipio che include San Pierdarena è il centro-ovest e siamo nell'ex abbiamo preso quella parte che corrisponde all'ex circoscrizione di San Pierdarena che come vi dicevo fino al 1926 era un comune a sé stante con una propria e anche ancora adesso ha una propria identità molto legata allo sviluppo anche industriale di fine 800 col periodo di Cavour l'unità d'Italia eccetera eccetera vediamo come vi dice questa è una vista dall'alto in cui si vede proprio in primo piano l'area di San Pierdarena con il porto e abbiamo avviato le nostre attività a gennaio 2024 si è partito proprio con un'attività con l'aiuto appunto del Dipartimento Dastu del Politecnico di Milano un'analisi della qualità dei percorsi ciclopedonali dei servizi presenti a San Pierdarena fondamentale ho visto anche in tutte le presentazioni l'utilizzo dello strumento GIS per fare mappature e per calcolare indici GIS che significa informazione geografica di temi informativi geografici in inglese Geographical Information System ecco qua qua ci sono alcuni esempi ma poi il collega del Politecnico di Milano spiegherà meglio appunto sono state qua sono alcuni esempi i servizi scolastici i spazi verdi le piazze questo indice di accessibilità comunque sono tante tante mappature e incroci di dati che sono stati realizzati aiutano grazie ecco quello che si diceva un altro elemento che è partecipazione coprogettazione da queste prime analisi il gruppo di ricerca ha fatto già una prima presentazione a San Pier d'Arena di questi risultati e delle attività previste per Genova Street Lab condividendo i passi che si sarebbero fatti insieme quindi proprio questo tema che è stato più volte evidenziato dell'ascolto attivo del territorio della raccolta di idee e spunti progettuali perché al di là delle analisi che si possono fare con gli strumenti GIS e di tutti questi di tutti questi aspetti fisici della conformazione del territorio è importante poi anche capire la percezione del territorio come le persone lo vivono come è accessibile e quindi tutti questi altri elementi nel mese di aprile poi si è conclusa questa prima fase di analisi per individuare le aree su cui intervenire e la mappatura appunto come si diceva prima GIS da un lato i sopralluoghi interviste a testimoni privilegiati per poi arrivare al questionario che ha dato in circa un mese di tempo 1050 risposte che è stata una buona risposta i temi indagati appunto sono stati la condizione di camminabilità i tipi di spazi le pratiche d'uso le percezioni e anche la criticità degli spazi di accesso ai servizi tra questi i servizi naturalmente anche quelli scolastici che come si diceva prima coinvolgono più persone di diverse generazioni e anche di diverse culture qui dal mese di maggio si è proceduto poi la selezione di questi dati come vedete siamo sono stati individuati dal Politecnico di Milano 28 spazi critici e poi da qui avanti si è arrivato a individuare gli ambiti di intervento perché si è valutata la realizzabilità la possibilità di fruizione la prossimità anche agli edifici scolastici e soprattutto si sono esclusi ambiti interessati già da progetti in essere o di prossimo inizio con fondi PNRR o altri tipi di fondi ce ne sono due esempi per chi è di Genova ai Voltini di San Pierdarena piuttosto che la riqualificazione di Villa Scassi e quindi o anche si sono esclusi quelle dinamiche che non sono risolvibili con l'urbanistica tattica perché non è detto che tutte le criticità si possano risolvere con questo strumento avanti poi c'è stato di nuovo un momento di restituzione di questo lavoro il 3 luglio 2024 un altro incontro verso il civico Buranello in cui sono state individuate le due aree che nello specifico sono quella di via Rolando e delle vie a pettine che coinvolgono molti edifici scolastici molti servizi e l'altra quella della scuola Sargari al suo intorno in cui c'è anche un'attività sul pedibus delle scuole attive su questo tema e nello scegliere sono stati anche individuati criteri tipo la localizzazione nella parte più orientale più occidentale più in basso e più in alto perché Genova come avrete avuto modo di vedere è una città non di pianura quindi ci sono diverse criticità anche rispetto alla posizione dove ci si trova all'interno della città anche per l'accessibilità sappiamo tutte le criticità che abbiamo avanti grazie e poi ci sono stati appunto in quest'ottica gli incontri di coprogettazione sui due ambiti di intervento il coinvolgimento degli attori del territorio si sono stati svolti a luglio lo scorso luglio andiamo avanti e qui ci sono questo è proprio preso mutuato dalle attività svolte dal Politecnico di Milano perché questo è il piano che ci si è andato in questo primo anno per fare questa attività di introduzione di organizzazione per capire come arrivare ad attuare questi interventi di urbanismo tattico e quindi tutte le attività che fino ad oggi vi ho illustrato brevemente poi da qui in poi il disegno del nuovo layout dello spazio pubblico ci sarà un supporto a questa attuazione da parte del Politecnico come si diceva prima un protocollo di monitoraggio degli interventi perché al di là di fare gli interventi è importante poi monitorarne valutarne l'efficacia come anche la messa a punto qualcosa funziona qualcosa non funziona oppure non hanno funzionato quindi anche questa tutta una parte da inserire e poi una roadmap degli interventi di urbanistica tattica da fare sia all'interno di quest'area poi da riproporre in altre parti della città e quindi tutto il percorso che ci aspetta e andiamo avanti grazie questo quindi a partire da adesso quindi da settembre c'è stato per ciascuno spazio si è messo un po' a sistema tutto il lavoro svolto nei tavoli di coprogettazione anche nei tavoli tecnici interni che abbiamo fatto e a seguito di questa fase poi ci sarà l'idea di progetto che sarà un progetto di fattibilità tecnico e economica qui mi riaggancio a quello che diceva l'architetto Guarino al fatto che poi ti passi dalla parte di urbanismo tattico alla realizzazione e quindi poi a tutti i temi collegati alle normative eccetera fatti appunto dagli uffici tecnici dell'ente e andiamo avanti qui ecco qui ho voluto un po' sintetizzare perché ci siamo trovati qui proprio dico appunto siamo un gruppo di lavoro multidisciplinare molti architetti devo dire però anche interno alle diverse direzioni perché come dicevo prima è coinvolta l'area del territorio c'è la direzione mobilità smart mobility ambiente il laboratorio di educazione ambientale del comune ma poi ci sono anche tutti i tavoli tecnici con i colleghi del municipio piuttosto che con i colleghi delle altre direzioni i colleghi della regolazione perché tutto il tema anche della pedonalizzazione di tutto quanto occorre fare e quindi in questo momento che stiamo anche facciamo tesoro di questo momento di oggi di condivisione di confronto proprio quello che ci capita ho cercato di fare un'immagine di da un lato le procedure le normative dall'altro le persone il senso di appartenenza il coinvolgimento attivo la cura degli spazi perché come si diceva anche il fatto che poi questi spazi da un lato si progettano come diceva anche l'architetto Guarino dall'altro poi però vanno anche l'utilizzo l'uso la condivisione e quindi patti di collaborazione per fare in modo che siano utilizzati e siano sempre vivi e anche che ci sia una certa cura di questi spazi sono tutti aspetti con cui ci stiamo confrontando e guardo tutte le colleghe che sono qui presenti della Smart Mobility dell'ufficio progettazione Smart Mobility del centro di educazione ambientale piuttosto che della direzione urbanistica alle mie colleghe e siamo in questa sfida per certi versi perché l'altro tema era quello che si diceva prima anche il tempo perché ci si è andato un tempo di un anno per iniziare che è molto ambizioso e poi a volte i tempi ci sono dei momenti in cui magari nel passaggio che come si diceva prima l'aspetto politico di condivisione politica quindi momento in cui deve andare in municipio in cui deve andare in giunta comunale e magari noi abbiamo cercato di stare nei tempi e poi magari altri eventi anche ci fanno un po' traslare il tempo e quindi governare tutti questi aspetti è veramente impegnativo da un lato le norme dall'altro però l'obiettivo è proprio quello di arrivare a rigenerare degli spazi ad uso della collettività che sia condiviso che sia fatto proprio e quindi questo è un processo articolato su cui stiamo affrontando un po' questa sfida e speriamo di fare una buona esperienza di poterla poi riproporre perché poi il tema è portare avanti questo che questi elementi che iniziamo a fare a San Piero d'Arena di queste riqualificazioni vengano portate avanti anche dalla comunità con il coinvolgimento della comunità e gestiti curati e dall'altro lato iniziare a progettarli sul resto della città e collegarlo come si diceva che è sempre impegnativo a tutti gli strumenti di pianificazione a partire nel mio caso dal PUC il piano urbanistico comunale ma anche il piano del verde che stiamo portando avanti collegato al PUC e quindi mettere insieme tutti questi aspetti non sempre è semplice anche gli aspetti multidisciplinari di lavorare in più direzioni ma anche in più enti poi più soggetti esterni perché poi piuttosto che Aster che per noi gestisce gli spazi verdi piuttosto che AMIU che gestisce la gestione dei rifiuti urbani insomma tantissime persone tanto è vero che poi nel slide dopo ho messo un po' i soggetti coinvolti ma sarebbero stati tantissimi ecco ho iniziato a pensare ma chi e quindi il gruppo di lavoro interdirezionale il gruppo di ricerca del Politecnico di Milano il tavolo tecnico interdisciplinare in cui c'è anche la disability manager ci sono anche tutti i colleghi che si occupano del piano del PEBA del piano dell'abbattimento delle barriere architettoniche insomma una quantità le associazioni di cittadini gli amministratori locali come si diceva perché la parte politica è fondamentale fino alle comunità scolastiche se vogliamo le comunità educative eccetera 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 e quindi con questo concludo vi ringrazio tutti per gli stimoli avuti questa mattina e ringrazio anche tutti i colleghi del gruppo di lavoro e del comune di Genova che hanno contribuito e tutte le persone anche coinvolte a San Pierdarena in questa attività grazie molte è buona ti do la parola direzza a Vitti Giovanni grazie buongiorno a tutte buongiorno a tutti io sono Giovanni Lanza sono genovese però lavoro a Milano sono ricercatore in urbanistica al Politecnico di Milano Dipartimento di Architetture e Studi Urbani di fatto rappresento un gruppo di ricerca avete visto alcune facce nelle foto mie colleghe che lavorano e hanno lavorato tra l'altro ad alcuni dei progetti che sono stati presentati stamattina per esempio nel caso di Bergamo o anche nel caso di Bologna come diciamo ricercatori abbiamo seguito lo sviluppo di diversi interventi di urbanistica tattica in giro per l'Italia e abbiamo imparato quindi quanto sia interessante potenzialmente anche come dire un elemento che che rappresenta una vera opportunità per pensare spazi nuove città ma anche come la presentazione di Cristina ha secondo me molto efficacemente sottolineato è anche una grande sfida è una mi piace sempre pensare un po' come se fosse una scatola cinese o una matrioska perché è una sperimentazione nella sperimentazione nella sperimentazione perché alla fine quello che viene fuori è un outcome diciamo qualcosa che succede nello spazio però poi dietro in realtà c'è un apprendimento che riguarda tantissime figure che lavorano insieme apprendono tra di loro magari a volte anche si scontrano perché sono proprio prospettive completamente diverse verso poi questo tipo di di esito che secondo noi è un esito molto positivo per le città ma non solo secondo noi ma in generale è un chiamiamolo un trend che a livello globale è molto è molto presente Cristina ha siccome perfettamente sintetizzato quello che è stato il processo no 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 davvero perché è molto sembra una cosa breve però in realtà è stata una cosa temporalmente breve però sicuramente molto intensa dal punto di vista delle attività che abbiamo svolto e quello che a me tra l'altro interessa constatare in questa specifica esperienza di Genova Street Lab è che per esempio alcune delle presentazioni che abbiamo visto stamattina pensiamo a Milano pensiamo a Bologna i loro interventi strade scolastiche e piazze aperte sono cominciati nel 2018 2019 addirittura prima della pandemia c'era già un'idea rispetto a realizzare questo tipo di interventi e loro hanno cominciato in un modo che è molto diverso rispetto a quello che applicano adesso perché andando avanti hanno modificato anche con una serie probabilmente di facciate che hanno preso in vari momenti o di vari insuccessi che hanno osservato in quello che facevano quindi hanno in qualche modo reso più efficiente se vogliamo usare questo termine il processo quello che sta cercando di fare Genova è una cosa molto ambiziosa perché è comprimere in qualche modo il meglio di tutte le esperienze che vengono fuori da questi casi in un anno e quindi è una cosa non da poco secondo me perché chiaramente questo significa concentrarsi su almeno quattro punti che su cui le altre città hanno in qualche modo investito per molto tempo e ancora oggi stanno sperimentando su quello perché da un lato c'è la prima cosa su cui noi come ricercatori siamo stati forse più coinvolti che è quello che riguarda il dove prendo le decisioni dove caleranno dove saranno in qualche modo atterrate queste soluzioni sembra una cosa semplice ci sono vari modi per scegliere dove realizzare questi interventi in certi casi vengono dal basso succede per esempio adesso a Milano ci sono delle proposte nel caso di Genova invece si è voluto utilizzare un modo l'assessore parlava una metodologia più scientifica se vogliamo che comporta però l'utilizzo di metodologie molto differenti che noi abbiamo applicato e che sono state secondo me rappresentano un buon modo di promuovere questi interventi perché tengono insieme sia una parte più chiamiamola oggettiva quindi vedere dati duri che piacciono sempre perché sono numeri sono cose in qualche modo osservabili e dimostrabili ma dall'altro anche tutto il processo in parallelo che è stato quello che poi ci ha dato forse anche gli spunti più interessanti di partecipazione e ascolto diretto della popolazione è interessante perché nella fotografia che hai fatto vedere che è quella del primo incontro che abbiamo fatto al centro civico Buranello di San Piero d'Arena avete visto tipica foto che cerca di prendere il più possibile le persone per far vedere ah c'era partecipazione ma in quella foto non si vedono tante persone perché non c'erano tante persone al secondo appuntamento che abbiamo avuto quattro mesi dopo quando è stato quella sala era praticamente piena che vuol dire che c'è stato un grande lavoro da parte di tutti quelli che hanno partecipato a questo progetto sia di renderlo in qualche modo pubblico sia di coinvolgere la popolazione perché nel frattempo c'era stato il questionario nel frattempo le persone si sono sentite parte di un processo e questo ha fatto sì che in una città dove tra l'altro come dire la partecipazione non siamo tipicamente quelle persone che vanno sulla pubblica piazza a parlare e che si sentono facilmente coinvolte però in quel caso abbiamo visto che anche in un quartiere che spesso è tra l'altro stigmatizzato per varie ragioni dalla stampa o anche dal sentire comune si vede come le persone vogliano e sentano questi interventi come qualcosa che può effettivamente cambiare non tutto non risolvere tutti i problemi ma portare in qualche modo a un inizio di un intervento e questo progetto secondo me è interessante proprio perché diciamo la sua ambizione è quella di seguire il procedimento dall'inizio quindi da scegliamo dove intervenire a costruiamo il problema insieme con le persone capiamo quali sono i loro desideri coinvolgendoli nella coprogettazione un'altra parola chiave che veniva citata è coprogettazione quindi nella nostra interpretazione coprogettazione è stato mettersi al tavolo con degli attori rilevanti mondo delle associazioni mondo degli enti con il comune e capire quali sono i bisogni le percezioni sulla base di un ascolto più ampio che abbiamo fatto nel quartiere quindi partendo con queste informazioni e chiedendo loro diteci quali sono i punti che secondo voi sono i più importanti e che cosa pensate che possa essere fatto per migliorare i problemi che osservate e cercando di evitare ovviamente delle soluzioni impossibili da realizzare però quello che abbiamo visto è che le persone sono state estremamente attente anche a chiamiamola la fattibilità pur non essendo dei tecnici veri e propri avevano delle idee molto precise su che cosa si può fare questo da già l'idea di quanto la cittadinanza comunque sia attiva in questa città in alcune delle sue aree e poi ci sarà tutta la partita che riguarda la realizzazione effettiva l'implementazione la progettazione e poi molto importante anche la gestione di questi spazi perché si è visto più volte quello che riguarda appunto la partecipazione e anche il discorso di gestione soprattutto in un quartiere dove lo spazio pubblico è molto conteso sia perché è poco sia perché quello che c'è diciamo crea spesso degli attriti fra le diverse popolazioni quindi questa sarà una parte probabilmente ancora più delicata rispetto a quella che abbiamo fatto più confortevole in qualche modo di tra un computer adesso diventerà invece qualcosa che riguarda appunto come questi interventi potranno avere successo e anche sul monitoraggio quindi ci sarà come ci insegna per esempio il caso di Bologna che è molto attenta all'aspetto del monitoraggio capire come si potrà realizzare e dal punto di vista della ricerca credo che questa sia quindi un'esperienza importantissima perché unisce sia un aspetto appunto di ricerca e di azione quindi un modo completo in qualche modo ripeto molto ambizioso perché davvero stiamo facendo qualcosa in questa città che probabilmente comprime davvero tantissime esperienze diverse molto più lunghe però per fortuna c'è anche il racconto di queste persone che vengono da luoghi in cui questa ormai è la normalità perché questo è importante secondo me sottolineare a Bologna a Milano a Bergamo parlare di questi temi è la normalità quindi c'è un forte diciamo sostegno anche pubblico rispetto a questo e io spero che a Genova con questo progetto con questo pilota e poi ovviamente con l'espansione in tutto il resto della città e la traduzione in altri spazi questo diventi un lessico comune che quindi le persone riconoscono e le persone conoscono e soprattutto in qualche modo sostengono anche attraverso la loro azione diretta perché questo poi è il cuore dell'urbanistica tattica grazie a questo punto darei la parola al dottor Mario Bellinzona dell'associazione La CUP che è un'associazione che come vi racconterà ha molta esperienza soprattutto credo in Piemonte se non erro su questo tipo di progettualità e che quindi abbiamo voluto fortemente insomma che ci raccontasse un po' anche sulla base degli stimoli che ha dato l'architetto Vassallo la propria esperienza grazie 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 dell'invito e grazie di tutti gli interventi precedenti io ho l'arguo compito dell'ultimo intervento quindi spero che abbiate ancora un po' di energia cercherò di c'è un altro quindi ancora di più ho come dire il compito di mantenervi vispi io vi porto un'esperienza di Torino e territorio metropolitano intanto come formazione io non sono un architetto ho una formazione nella mediazione linguistica e quindi mi interessa molto il come dire la parte comunicativa tra enti diversi tra soggetti diversi nel territorio perché mi interessa far parlare soggetti diversi persone diverse e poi invece sulla parte di architettura ho fatto il corso di specializzazione dell'Uava Venezia proprio sul tema dello sviluppo urbano sostenibile e dell'azione locale partecipata però mi interessa molto come dire il dialogo e la comunicazione appunto tra soggetti diversi io ho lasciato nel titolo l'inglese Tactical Urbanism non per fare più internazionale semplicemente perché immaginando che ci fossero molti urbanisti e sapendo che c'è una diatriba sulla traduzione urbanistica urbanismo urbanesimo insomma si discute per ore allora per evitare ho lasciato l'inglese e parlerò per evitare di interventi tattici perché tattici sono collaborativi interventi perché secondo me la parola intervento come dire riprende un po' l'idea di attivismo che c'era nelle prime esperienze se avete presente i due volumi di Mike Lydon sul Tactical Urbanism l'uno e due partono proprio da quelle esperienze tipiche del parking day quindi prendersi un parcheggio e trasformarlo in un giardino temporaneo anche se fosse anche solo per un giorno quindi c'è questo aspetto di spirito di attivismo rispetto rispetto allo spazio pubblico tattici perché effettivamente sono caratterizzati da una natura tendenzialmente limitata e tendenzialmente provvisoria e collaborativi perché si basano sull'interazione necessariamente come è stato ridetto molte volte oggi tra soggetti diversi che sono accomunati dal desiderio di lavorare insieme su uno spazio comune di attivarsi per migliorare quello spazio e viverlo diversamente nella ok dicevo soggetti diversi perché di fatto l'attivazione spesso parte da anche da soggetti diversi cioè non è sempre necessariamente dal basso non è sempre necessariamente dall'alto può essere da entrambe le parti può essere in direzioni diverse da due parti diverse quindi è interessante accogliere nella nostra esperienza l'emergere di un bisogno quale che sia l'origine che sia il comune che sia l'associazione locale che sia il gruppo di cittadini informale che sia la scuola e riuscire ad accompagnare la costruzione di un gruppo di lavoro è stato già ricordato ampiamente l'importanza di avere un gruppo di lavoro il più possibile intersettoriale interassessorile interdisciplinare inter tutto perché questo naturalmente aiuta poi magari all'inizio è più faticoso è più lungo ci vuole più tempo ma poi effettivamente snellisce tutta una serie di passaggi che comunque prima o poi dovremmo fare quindi prima li facciamo prima condividiamo e meglio è quindi riuscire a collaborare a più voci innanzitutto condividendo un linguaggio nella nostra esperienza ci siamo accorti che nei primi tavoli di lavoro quindi parliamo di molti anni fa le persone che sedevano attorno al tavolo quindi uffici comunali più diversi dall'istruzione alla politica educativa polizia municipale lavori pubblici urbanistica polizia municipale rappresentati in amministrazione terzo settore scuola la parola progetto per dirne una evocava in ognuno un'idea completamente diversa quindi c'era chi pensava al progetto pedagogico chi pensava al progetto esecutivo e quindi c'era proprio bisogno innanzitutto di condividere un linguaggio comune per capirsi perché altrimenti si continua a parlare ma si parlano di fatto linguaggi diversi lessici diversi con significati diversi quindi è molto importante l'aspetto diciamo collaborativo nelle varie fasi pensando che è una collaborazione che spesso cambia temporalmente noi siamo abituati a pensare si è parlato anche di periodi interventi tattici magari tre anni che poi diventino permanenti è difficile secondo me dare un tempo rigido in questo senso poi voi avete molto compresso dicevate tutta questa prima parte addirittura in un anno è molto difficile io credo perché è molto legato al tipo di intervento e di spazio su cui si va e di comunità su cui si va ad agire è chiaro che se io penso a un gruppo piccolo auto-organizzato che fa appunto un parking day è una cosa se io penso ad un gruppo interdisciplinare interassessorile intersettoriale interdirezionale di un comune con un territorio i tempi sono completamente diversi quindi sì short term for long term change quindi cambiamenti cioè azione a breve termine in tempi brevi per un cambiamento a lungo termine ma non sempre questi tempi brevi sono brevissimi cioè bisogna anche li calibrare un po' in funzione della situazione l'apertura dei processi è un altro aspetto a nostro avviso particolarmente interessante perché è stato detto è molto importante poter provare testare sperimentare delle cose anche poter cambiare non è detto che quello che si fa sia necessariamente la soluzione migliore e soprattutto rispetto a chi magari ha delle perplessità il fatto di poter modificare non usare il termine reversibile perché mi fa pensare che si torni indietro per cui preferisco modificabile che ci dà la possibilità come dire di non abbandonare l'obiettivo che è quello comunque di trasformare torni dal via senza le 20.000 lire vecchie del Monopoli e quindi è interessante l'apertura perché consente di sperimentare anche cose molto piccole vedete questa è un'esperienza micro in una frazione di un comune che è rivalta di Torino dove un piccolo parcheggio tra due scuole una scuola primaria e una scuola dell'infanzia è stato chiuso banalmente con due fioriere e un dissuasore in cemento è stato fatto un piccolo intervento con gli allievi della scuola che hanno scelto di dedicare quello spazio al buongiorno quindi in varie lingue nelle lingue degli allievi che frequentano quella scuola quindi rumeno italiano francese inglese sostanzialmente è stato scritto un buongiorno di accoglienza e poi nel tempo il comune ha cominciato un po' a depavimentare vedete c'è una strisetta verde a sinistra certo come dire si poteva fare di più si poteva fare di più però intanto è un inizio e quindi come dire piano piano le cose possono possono evolvere ogni intervento nasce da il desiderio di un impegno attivo e questo impegno è interessante perché è spesso un impegno che poi si manifesta concretamente soprattutto nella fase realizzativa e quel momento lì è un momento interessante perché persone che magari non siamo riusciti ad agganciare prima perché hanno come dire magari sensibilità diverse non sono interessate a sedersi intorno a un tavolo o fare un sopralluogo ma quando si tratta di agire si innesca un meccanismo per cui anche persone che non si sono fatte coinvolgere prima magari nell'azione invece nel fatto di dire vabbè c'è da dipingere c'è da piantare ecco su quella cosa lì invece ci sono e hanno voglia di attivarsi allora anche su questo secondo me è importante ragionare di nuovo in modo complesso cioè capire i vari soggetti quando possono vogliono e meglio coinvolgerli perché magari pretendere di avere lo stesso gruppo dall'inizio alla fine non è la scelta migliore più efficace perché si si rischia di perdere delle persone che invece in alcuni momenti sarebbero estremamente attive e avrebbero voglia di farsi coinvolgere e secondo me è anche molto interessante vedere quando succede un auto coinvolgimento non so come dire i ragazzi che vedete in questa foto l'ho messa perché è un video su youtube quindi assolutamente pubblica sono i ragazzi di una scuola di Pinerolo di una scuola superiore che avevano fatto un progetto con noi per riqualificare un giardino pubblico che non era neanche poi così malmesso però insomma loro sentivano il bisogno di di intervenire su questo giardino pubblico con i fondi che questo era un progetto nato e sostenuto da Compagnia di San Paolo con i fondi che c'erano si era riuscito a reintegrare un filare di alberi che era stato danneggiato per cui a ricreare diciamo almeno questa cortina verde ma in realtà le loro idee andavano ben oltre ma non c'erano in quel progetto le risorse quell'anno c'era il comune lanciava un bilancio partecipato e quindi i ragazzi hanno deciso autonomamente hanno parlato con l'insegnante hanno deciso autonomamente di partecipare li vedete nel video non solo perché volevano pubblicizzare la loro idea ma anche perché eravamo nell'anno del covid e quindi loro hanno provato in tutti i modi attraverso i social youtube eccetera a pubblicizzare il loro progetto perché venisse venisse votato sicuramente la buona riuscita di un progetto è molto legata al grado di inclusività dei soggetti ma non c'è sicuramente solo l'aspetto dell'inclusività perché chiaramente certo è importante ideare assieme realizzare assieme cogestire successivamente ma ci sono altri aspetti è stato evocato in modo particolare quello della temporaneità qui vedete io ho scelto l'aggettivo transitorio perché se appunto gli inglesi parlano sempre di appunto di temporary come facciamo noi i francesi sono più così effemer ci raccontano la stessa la stessa cosa con un altro garbo ma sempre di qualche cosa di durata breve circoscritta a me piace di più l'aggettivo transitorio non per come dire fare cavilli linguistici ma perché mi sembra che restituisca meglio poi la lingua è pensiero quindi è anche importante pensare bene alle parole che usiamo per comunicare idee progetti e anche un cambiamento culturale che è estremamente importante in queste cose quindi c'è lo transitorio perché mi fa pensare che quell'intervento lì che comincia appunto in un modo che sapremo che non durerà in eterno però mi porta verso qualcos'altro cioè non è semplicemente che provo e poi vabbè oh ragazzi è andata così reversibile togliamo tutto non preoccupate no vediamo di andare verso qualche cosa di meglio che sia a lungo termine e anche che sia incrementale io spesso i comuni ma ancora più che i comuni devo dire i cittadini io ad esempio in un'assemblea c'era un'insegnante molto preoccupata di capire quanti soldi il comune mettesse nel progetto e allora dicevo però scusate al di là di quanti soldi il comune ha in questo momento ragioniamo anche in modo incrementale ci può anche darsi che in questo comune che in questo momento non ci siano risorse enormi però se ci sono risorse sufficienti a fare un primo intervento almeno a cogliere una priorità nel progetto che peraltro non era neanche cominciato siamo ancora all'inizio del processo partecipativo quindi già preoccuparsi della fine è proprio sintomo del fatto che c'è l'idea che si fa l'incontro perché c'è già un progetto può essere ma un'altra cosa è un incontro di presentazione di un progetto del comune sacro santo ma è un'altra cosa e quindi anche l'idea che sia una cosa incrementale che io posso fare un primo pezzetto e poi mano a mano aggiungere anche questo secondo me è proprio un modo a cui siamo poco abituati cioè o c'è tutto subito questo purtroppo è un po' figlio del nostro tempo c'è stato detto che dobbiamo avere possiamo avere tutto subito e in realtà non è così niente ma quest'idea purtroppo è un po' passata vi faccio tre casi veloci uno è un caso torinese qui siamo nel quartiere di San Salvario noi abbiamo sede lì vicino San Salvario è un quartiere diciamo a sud subito a sud e limitrofa al centro storico quindi di fianco alla stazione Porta Nuova a ovest c'è la ferrovia a est c'è il Po e il Parco del Valentino a nord c'è il centro storico a sud ci sono gli ospedali adesso per darvi un'idea il quartiere il quartiere ha circa 40.000 abitanti è un quartiere molto misto ci sono diverse università è un quartiere molto vivace anche come tessuto associativo un quartiere interessante io non abitavo lì ho deciso di andare ad abitarci ho vissuto alcuni anni a Torino in un altro quartiere poi a un certo punto quando si è stata da decidere con i figli abbiamo deciso di andare proprio a vivere lì questa scuola questo liceo è un liceo delle scienze umane liceo linguistico aveva questa situazione davanti quindi vedete uno spazio che era principalmente dedicato a parcheggio e una striscia una fascia diciamo proprio limitrofa all'ingresso protetta con dei dissuosorafittori nei paletti per consentire diciamo l'ingresso sicuro ai ragazzi a scuola lì ci sono diverse centinaia di studenti ogni giorno e c'è anche poi il serale è interessante vedere da cosa siamo partiti cioè quello non è un percorso davanti alla scuola che è cominciato dalla scuola ci si potrebbe immaginare che siano stati gli studenti o la dirigente a voler modificare lo spazio di davanti in realtà no un progetto precedente che si chiamava spazio per tutti sostenuto prima a Compagnia di San Paolo e poi successivamente la fondazione CRT aveva coinvolto diverse associazioni del quartiere come vi dicevo c'è un tessuto associativo molto forte nell'identificare e mappare una serie di spazi pubblici che secondo le associazioni meritavano di essere riqualificati quindi non necessariamente spazi grandi anche spazi residuali piccoli spazi ma che secondo le associazioni del territorio meritavano di essere rivisti fatta questa mappatura si è anche detto beh però dobbiamo scegliere uno spazio da cui partire magari possiamo intervenire su tutti non c'erano neanche le risorse a quel punto il gruppo si è dato dei criteri e ha scelto uno dei criteri era il numero di persone che fruivano in un determinato spazio e decisamente il liceo con le centinaia di studenti che ogni giorno entrano ed escono ha vinto il primo posto pole position e quindi a quel punto solo a quel punto siamo andati dalla dirigente scolastica dicendo guardi c'è stato tutto questo lavoro questa è la mappatura questo è lo spazio su cui l'attenzione delle associazioni si è concentrato e sul quale vorrebbe agire la scuola è interessata possiamo fare una cosa assieme è spazio pubblico potevamo anche farlo senza bisogno della scuola ma non aveva senso fortunatamente in quel momento c'era una dirigente scolastica molto attiva molto sensibile che purtroppo era andata in pensione e quindi è partito un processo con le classi i laboratori i sopralluoghi i ragazzi ci hanno detto delle cose da brivido cioè questo è uno spazio grigio è vero lo era uno spazio ci sembra di entrare in carcere ogni giorno non abbiamo un posto dove sederci non c'erano posti dove sedersi c'erano solo i gradini dell'ingresso a proposito di accessibilità tra l'altro quindi le esigenze che sono venute fuori da questo percorso riguardavano sostanzialmente la possibilità di stare proprio in quello spazio di sedersi di stare in uno spazio più colorato più verde e senza auto su questo i ragazzi erano stati molto chiari nel tempo negli anni sono stati agganciati una serie di finanziamenti principalmente di fondazione CRT per riuscire a modificare pian pianino in modo incrementale quello spazio quindi dovete comparire le prime fioriere le panchine le abbiamo recuperate erano panchine che stavano nel magazzino comunale erano un po' rovinate avevamo bisogno come dire di un po' di di maquillage e le abbiamo riportate nello spazio pubblico i dissuasori i paletti che c'erano li abbiamo sostituiti con dei cubi di pietra recuperati di nuovo dai magazzini comunali che così sono diventati hanno mantenuto la funzione dei dissuasori ma allo stesso tempo hanno aggiunto la possibilità di sedersi e i ragazzi infatti li usavano e la circoscrizione questo poi è stato anche un finanziamento della circoscrizione per coinvolgere un artista che ha fatto insieme ai ragazzi quel murale che vedete che voleva ispirarsi un po' al Bauhaus visto che la scuola è degli anni 30 inizialmente era stato proposto un bozzetto molto diverso devo dire anche molto forte e anche molto divertente ma la commissione arte pubblica della città l'ha bocciato però anche questo fa parte come dire di un percorso di partecipazione di consapevolezza perché è importante immaginare ma anche essere consapevole di quali sono poi i vincoli velocemente l'immagine che vedete a destra Jacopo era rappresentante degli studenti ma qui era già fuori dalla scuola quando lo vedete lì sulla scala in un momento di autogestione della scuola era venuto J-AX invitato dagli studenti aveva fatto un incontro con i ragazzi ed era da questo incontro poi era uscito un instant graffiti sapete quelli che si disegnano si dipingono sulla carta e vengono poi incollati sui muri e quindi c'era J-AX che dava un messaggio insomma per dire l'importanza degli studenti dei giovani che si attivano eccetera c'era un ragazzo che rispondeva qualcuno ha pensato che quel messaggio forse non andasse bene e ci ha dipinto sopra e a quel punto mentre prima comunque aveva un suo perché anche se copriva una parte dell'intervento murale precedente a quel punto era solo brutto e quindi siamo intervenuti per toglierlo e per ridare il colore adesso la situazione è questa c'è stato un periodo transitorio che è quello che vedete a sinistra in cui con il professore di arte purtroppo anche lui è andato in pensione maledizione insegnanti bravi non dovrebbero mai andare in pensione mi dispiace ma no per cui era stato diciamo ribaltato ribaltato il disegno non pedissequamente però si era ispirato al disegno sulla facciata per ribaltarlo sulla pavimentazione e poi con fondi del ministero dell'ambiente avuti dalla città di Torino che sono caduti sul quartiere su tutta una serie di interventi una parte è andata a ridefinire quello spazio contemporaneamente la scuola ha vinto con un concorso fatto dai ragazzi degli alberi e quindi si è riusciti a depavimentare una parte intanto è stato chiuso il parcheggio è diventato tutto spazio pedonale e sono stati messi a dimora degli alberi quindi adesso la situazione è migliorata migliorata per tutti faccio notare perché quello è uno spazio pubblico ringrazio molto Bergamo ho subito rubato l'espressione piazze di quartiere perché una cosa che ci preoccupa nel parlare di piazze scolastiche è che vengono percepite come piazze delle scuole invece no sono un regalo che le scuole fanno alla comunità tutta quindi deve essere molto chiaro al quartiere ai cittadini che devono essere grati alle scuole e comunque per tutto il lavoro che le scuole magari avviano questo è un'altra esperienza invece a Pinerolo vicino dove avevano lavorato con i ragazzi che avete visto prima è un po' lo scolastico qua ci vedete con le mascherine perché eravamo nel 2017 ovviamente non c'era il covid nel 2017 la situazione di partenza c'era questo parcheggio con un bar che era molto amato dagli studenti il caffè Banni così per la cronaca che era stato chiuso anche perché aveva un problema di amianto quindi era meglio non usarlo anzi deve essere smantellato ma di fatto i ragazzi avevano perso uno spazio dove potersi sedere durante la pausa pranzo perché lì c'è un grandissimo pollo scuola ci sono due scuole superiori una scuola secondaria di primo grado una primaria una scuola dell'infanzia i ragazzi più grandi e le superiori andavano lì a mangiare di fatto nell'attesa delle lezioni del pomeriggio e quindi alla fine si sedano per terra cioè smantellato quello si sedano per terra che cosa è stato fatto è stato fatto un lungo lavoro diciamo di mappatura anche con l'università di Torino e con First Life che è un social civico georiferito che consente su una mappa interattiva di raccogliere tutta una serie di percezioni proposte rispetto a spazi pubblici e insieme grazie al lavoro di nuovo intersettoriale interassessorile del comune e su questo devo dire che sempre più mi capita di vedere nei comuni questa attenzione questo movimento molto positivo verso un lavoro di collaborazione tra settori tra uffici tra servizi lì l'ufficio che era rispondente del progetto è riuscito parlando con i lavori pubblici e con l'urbanistica a intercettare un bando al cotra su cui stava lavorando l'altro settore su quell'area e riuscire così a trovare le risorse per creare una sorta di piazzetta pedonale non è grandissima sono circa 4-500 metri quadri che inizialmente era nata come intervento tattico sul quale i ragazzi avrebbero appunto disegnato e sarebbe stata protetta in modo temporaneo con pardon transitorio con dei disfasori invece è stato possibile a quel punto fare subito un intervento permanente ma diciamo l'aspetto più tattico decorativo che i ragazzi avevano immaginato è stato comunque realizzato ed è stato un mezzo miracolo perché eravamo in pieno covid quindi immaginatevi lì siamo riusciti a portare fuori i ragazzi a piccoli gruppi erano tutti distanziati cioè non solo distanziati sono la foto lo erano veramente erano tutti la mascherina quindi è stato veramente anche una grande come dire soddisfazione riuscire a agire anche in un momento così drammatico quindi il prima e il dopo questo è uno spazio ci sono molti condomini attorno quindi usato poi in altri momenti non solo dalla scuola chiudo cerco di essere veloce sull'ultimo caso quello di Chieri un comune invece scusate non ho detto niente Pinerone un comune a sud di Torino 36.000 abitanti Chieri un comune a est la zona un po' più collinare verso il Monferrato anche qua siamo sui 36.000 abitanti questo è un progetto questo di Chieri più ampio nel senso che si inserisce in un progetto di cui tra l'altro l'architetto Vassallo è referente scientifica come Politecnico di Torino insieme a una serie di partner che vedete Architettura Senza Frontiere la APSUS o ormai gli orti metropolitani Torino Respira voluto in questo caso proprio dalla Compagnia di San Paolo cioè lì è stata la fondazione che vedendo tutta una serie di esperienze presenti sul territorio ha chiesto agli enti del terzo settore e all'università di mettersi insieme di costruire un gruppo di lavoro insieme per affrontare il tema in modo più organico è stato dedicato tutto un anno tra l'altro anche con Cristina Renzoni Paola Savoldi c'era anche il Politecnico di Milano nella prima annualità sulla parte diciamo di mappature qui una che diciamo a noi sembra particolarmente interessante quella che vede da sinistra è quella legata alle percezioni e alle aspettative cioè abbiamo proposto quattro scenari disegnati da un illustratore sulla situazione davanti alla scuola ed è interessante più volte avete evocato il tema delle percezioni come genitori che hanno figli nella stessa scuola vedano quello spazio in modo completamente diverso ma proprio completamente diverso da chi ti dice che è molto trafficato a chi ti dice che è quasi pedonalizzato quindi davanti a qualche cosa che è oggettivo la percezione cambia molto e sapere quali sono le percezioni è importante perché se la percezione è molto diversa magari noi andiamo a ragionare di un progetto senza tenere conto che il punto di partenza è molto diverso e non condiviso ma molto interessanti erano anche le aspettative quelle che vedete in verde sono le aspettative rispetto alla chiusura o di uno spazio o totalmente dello spazio davanti attorno alla scuola qualità dell'aria relazioni sono state fatte moltissime mappature che dovevano servire a individuare in un quadro come dire complessivo e c'è una mappa interattiva che come tanti layer sovrappone il numero di studenti per ogni scuola la qualità dell'aria la presenza del verde eccetera ci dice ci doveva dire quali fossero le scuole su cui agire questo è un progetto che coinvolgeva Torino e quattro comuni della cintura di fatto però poi come dire lo studio è molto interessante per capire non so quali sono le priorità ma poi a volte ci sono delle situazioni molto concrete che ti fanno dire sì magari lì sarebbe prioritario però là ho delle condizioni più favorevoli per partire perché magari ho una dirigente scolastica un dirigente molto molto favorevole molto positivo e quindi magari preferisco agire da un'altra parte dal punto di vista normativo è stato interessante intrecciare questo lavoro con la revisione l'aggiornamento del piano del PGTU il comune si trovava in quel momento a dover aggiornare il piano del traffico e quindi ha chiesto alla società che doveva fare l'aggiornamento di inserire tutto il tema delle piazze scolastiche delle strade scolastiche delle zone scolastiche all'interno del PGTU in questo modo creando già le condizioni per un cambiamento non solo lì davanti non sto a raccontarvi dettagli poi se volete vi posso raccontare comunque ci sono stati n.mila incontri con la cittadinanza feste nella strada davanti alla scuola incontri di presentazione con l'amministrazione con i cittadini e quello che vedete sono alcuni pezzi dell'intervento incrementale cioè prima è stata chiusa la strada sono stati messi dei tavoli da ping pong sono stati messi dei tavoli da picnic che sono usati per fare lezioni all'aperto ma anche dai residenti per versi l'aperitivo o semplicemente leggere il giornale e con un artista locale è stato pensato questo intervento di street art sulla pavimentazione che è stato poi realizzato insieme ai ragazzi quindi il prima e il dopo scusate velocemente quali apprendimenti in questi percorsi sicuramente noi pensiamo che per la cittadinanza è stato interessante ok sostanzialmente diciamo il mettersi in gioco direi che può valere per tutti e tre i soggetti nel senso che cambia proprio il modo di relazionarsi e questo è molto importante perché crea le condizioni veramente per cambiare il modo anche di lavorare e di lavorare assieme cioè non c'è più tanto la richiesta della scuola o del cittadino o del terzo settore all'ente pubblico ma l'idea di insieme ognuno fare delle cose e questo è molto importante soprattutto per la parte successiva avete accettato al tema della cogestione degli spazi e i patti di collaborazione ad esempio nell'ultima piazza che avete visto sono stati siglati sia un patto di collaborazione sia un patto educativo di comunità grazie grazie mille davvero per l'intervento molto molto interessante penso per noi e ringrazio anche molto Andrea Colombo della Fondazione Innovazione Urbana del Comune di Bologna che ci ha atteso insomma perché non per colpa vostra assolutamente ma siamo un po' in ritardo e quindi gli darei la parola per l'ultimo intervento e così poi chiudiamo la mattinata Sì grazie buongiorno a tutte e tutti spero mi sentiate e vediate bene e vediate le le slide che vado a proiettare vi vi ringrazio per questo coinvolgimento ampio della città di Bologna in in questo convegno ma soprattutto per aver organizzato questa mattinata di approfondimento e anche di confronto tra realtà ed esperienze diverse sicuramente la collega Chiara Girotti ha avuto modo in precedenza di presentare in maniera più articolata e compiuta nel merito i numerosi progetti di urbanistica tattica relativi soprattutto alla strategia che il comune di Bologna sta attuando per quanto riguarda una mobilità scolastica più sicura e sostenibile quello che vorrei invece provare il punto di vista che vorrei provare a portare io è quello diciamo se vogliamo anche più tipico della nostra fondazione la fondazione You fondazione innovazione urbana Rusconi Digi solo 15 secondi per dire che siamo una nuova fondazione nata il primo gennaio di quest'anno che mette assieme in realtà l'esperienza di tre precedenti fondazioni bolognesi e che si propone in sostanza come centro propulsivo di ricerca di comunicazione di progettazione di accompagnamento tutte le principali trasformazioni sia fisiche che sociali della città o meglio delle città appunto in sintesi laboratorio per la città che vogliamo è stato quindi naturale per noi anche nei nostri precedenti assetti lavorare sul tema dell'urbanistica tattica e vorrei essenzialmente visto anche l'orario condividervi schematicamente tre riflessioni che girano attorno a questi concetti il concetto di sperimentare le trasformazioni proprio nell'ottica che si diceva anche di vivere non come temporaneità o reversibilità piuttosto come transitorietà questi interventi in ottica di trasformazioni invece definitive l'idea della necessità di costruire e accompagnare con cura quello che è un cambiamento non solo fisico ma anche di modo d'uso degli spazi pubblici della città e terzo l'idea di inserire l'urbanistica tattica all'interno di una visione una strategia più complessiva di condivisione dello spazio pubblico delle strade delle piazze delle nostre città proprio per cambiarne anche gli utenti e gli usi andrò soprattutto su immagini quindi partiamo da sperimentare le trasformazioni c'è sempre una prima volta la nostra prima volta è stata a Bologna nel 2019 tra l'altro in un contesto per nulla banale in pieno centro storico quindi con una serie di complessità maggiori che nei quartieri della città e tra l'altro quindi prima della pandemia prima del covid che ha dato come dire che è stato un bel booster poi a proseguire con questo genere di sperimentazioni una piazza che era una piazza storica qui poi non vedete tutte le facciate ma ci sono due palazzi storici sulla destra e sulla sinistra in più questa chiesa che però di fatto come spesso succede nei centri storici italiani era in realtà una piazza ridotta a parcheggio e grazie all'opportunità anche di un progetto europeo abbiamo sperimentato questa trasformazione veramente dirompente nel confronto fra prima e dopo che non è stato solo l'eliminazione dei parcheggi e l'apertura alle persone ma anche un cambio di materiali un cambio temporaneo dalla pietra dal permeabile al verde all'impermeabile anche se essendo appunto un intervento tattico in realtà non c'è un vero e proprio depaving ancora ma c'è una sovrapposizione di uno strato verde naturale vegetativo dentro una vasca sopra sopra l'asfalto però probabilmente non saremo mai riusciti a fare un intervento di questo genere definitivo anche rispetto ai vincoli che spesso le soprintendenze pongono in centro storico e quindi la tattica è stata una chiave non solo verso la cittadinanza per sperimentare nuovi usi e nuovi paesaggi ma anche ad esempio rispetto ad altri enti preposti alla tutela che nella transitorietà e temporaneità dell'intervento magari consentono questo genere di sperimentazioni in vista di progettazioni più definitive e come dicevo parliamo spesso di trasformazioni fisiche ma forse una delle parti più interessanti è come le trasformazioni fisiche determinano anche trasformazioni d'uso trasformazioni sociali comunitarie anche qui in queste foto si vede qualche mascherina perché poi l'esperimento è proseguito ben oltre l'esperimento in realtà è ancora in corso a proposito di anche insomma durata della transitorietà e questo ha portato all'inizio a far vivere questo nuovo spazio con iniziative organizzate come questa di confronto su questo cambiamento ma in realtà successivamente sono partiti anche usi assolutamente spontanei dai parti delle persone sedersi sul prato appoggiarsi alle vasche verdi e così via quindi l'importanza delle trasformazioni d'uso sia quelle organizzate magari in fase di start up di questi nuovi spazi per accompagnare e suggerire nuove nuove modalità d'uso e di vita dello spazio pubblico ma anche di importanza di lasciare al sperimentare ai cittadini come usare queste queste che si possono definire veramente le nuove piazze perché è difficile definire piazza quella precedente seconda riflessione quella attorno alla necessità di avere anche un metodo per costruire e accompagnare il cambiamento nel cuore della città e su questo la nostra fondazione in particolare la nostra area spazio urbano mi piace citare in particolare anche il lavoro del collega Leonardo Tedeschi che ha lavorato tra l'altro con alcuni di voi col Politecnico con anche all'interno di progetti europei abbiamo appunto provato a mettere in piedi un modello di processo prima durante e dopo gli interventi di urbanistica tattica su un doppio livello interno ed esterno quindi cosa occorre fare internamente a livello di progettazione di disegno disegno non solo in senso tecnico disegno anche del processo e cosa occorre fare in termini invece di attività con riflesso esterno di coinvolgimento della comunità e quindi ecco volevo fare una rapida carrellata del diciamo degli step principali dal punto di vista del processo che ci siamo immaginati ce n'è uno che è quello dell'emersione anche delle possibili localizzazioni che a volte avviene tra virgolette su carta ma molte volte invece avviene dal basso e mi viene da dire se mi è permesso il gioco di parole a volte sperimentiamo la tattica prima della tattica cioè a volte una festa di fine anno davanti a una scuola è di fatto una sperimentazione tattica in vista di un intervento di urbanistica tattica che poi magari diventa intervento definitivo che è quello che è successo proprio nel caso della foto di sinistra alle scuole tambroni oppure a volte la tattica prima della tattica è la sperimentazione di un'area scolastica chiusa soltanto negli orari di ingresso e di uscita che poi diventa una sperimentazione di una piazza pedonale tattica che poi magari evolve a intervento definitivo quindi mi faceva piacere sottolineare come dire che ci può essere anche una pretattica diciamola così noi lavoriamo molto anche sul tema dell'osservazione quindi prima di immaginare interventi per quanto transitori provare a osservare quali sono gli usi dello stato di fatto sia con osservazioni in strada sia con questionari nelle comunità interessate sia anche con interviste e focus group per capire quali sono gli usi praticati e gli usi magari desiderati ma oggi impossibili per l'assetto dei luoghi poi lavoriamo sulla progettazione insieme al comune tentando di inserire elementi anche di coprogettazione ad esempio insieme alle comunità scolastiche quando si realizzano piazze nelle aree antistanti alle scuole quindi entrando nelle scuole ma anche facendo uscire le scuole sul territorio come occasione di conoscenza dei quartieri fino ad arrivare in alcuni casi alla coproduzione quindi a realizzare insieme gli interventi di urbanistica tattica che quindi esprimono un'ulteriore loro potenzialità che è quella di far partecipare attivamente la comunità alla realizzazione cosa che se fossimo nel campo tra virgolette tradizionale dei lavori pubblici per mille motivi sarebbe molto e quindi gli interventi definitivi sarebbe probabilmente molto più più complesso e a volte ma ne ho sentito parlare anche nei precedenti interventi si arriva anche alla cogestione degli interventi realizzati con fatti di collaborazione anche con iniziative ancora più spontanee ad esempio qui siamo davanti a una piazza scolastica in cui è stato fatto anche depaving e appena realizzate le nuove aiuole senza che noi avessimo costruito un processo di collaborazione civica specifica la comunità dei bambini e delle bambine ha deciso di prendersi cura delle nuove aiuole quindi oggi abbiamo alcune aiuole che sono curate dal servizio manutenzione del verde del comune altre che invece sono autogestite dalla scuola anche come occasione di outdoor education per appunto per le classi abbiamo lavorato molto lavoriamo molto sul tema del monitoraggio ma qui insomma se ne è già parlato anche insomma una bella spinta è stata data proprio dalla collaborazione col Politecnico di Milano anche grazie alla disponibilità di società specializzate tecnologiche trasform trasform abbiamo potuto monitorare come cambiano gli usi con delle telecamere come cambiano gli usi dello spazio pubblico come dei parcheggi diventano i luoghi principali invece di ritrovo delle persone tra l'altro questa era nata come una piazza scolastica la cosa più interessante è stata vedere come la maggior crescita di uso di frequentazione da parte delle persone in realtà era nel weekend proprio a conferma che le piazze scolastiche in realtà spesso sono o diventano piazze di quartiere per tutto il quartiere anche a scuole più il monitoraggio per noi non è però solo un fatto tecnico monitorare è importante che si rivolga anche alla comunità come le persone vivono con gli spazi perché stiamo cercando di restituire spazi alle persone in fin dei conti e quindi il monitoraggio a volte è fatto anche di nuovo con dei questionari con delle interviste e vedete da questa word cloud come cambiano le percezioni delle persone fra prima un parcheggio uno slargo inutilizzato o mal sfruttato ha invece uno spazio colorato bello dove ci si può vedere finalmente spazioso ecco lavoriamo molto anche sulla comunicazione non nell'ottica tradizionale ad esempio di dire cosa non si può fare cosa è vietato quante volte accedendo a dei parchi e dei giardini c'è l'elenco dei divieti abbiamo provato a ribaltarli nell'ottica positiva di cosa puoi fare che è importante non solo per una logica positiva e non negativa di divieto ma è importante anche perché sono interventi nuovi quindi bisogna spiegare alla cittadinanza ma cos'è quel tavolo da ping pong strano che è comparso cos'è quella panchina sfondata quella panchina su cui si siedono di solito gli adolescenti senza seduta e così via così come e mi avvio all'ultimo ragionamento la comunicazione abbiamo cominciato a inserirla dentro la strategia e l'identità visiva del nostro progetto diciamo strategico che è quello di Bologna Città 30 in cui uno degli elementi più importanti a livello strategico che abbiamo individuato è la necessità di raccontare la Città 30 di Bologna non solo e non tanto come un limite di velocità ma anche soprattutto come una redistribuzione dello spazio pubblico in favore delle persone e quindi abbiamo ad esempio coniato il claim anche questa è Città 30 riferito alle piazze scolastiche abbiamo cominciato a mettere questi standardi nelle piazze scolastiche proprio per rendere concreto evidente che i 30 non sono solo un limite di velocità ma sono anche nuovi spazi per le persone nella città quindi Città 30 non è solo un'ordinanza è un cartello e da ultimo appunto la strategia sull'urbanistica tattica si inserisce all'interno di un'idea più ampia di condivisione dello spazio pubblico che tra l'altro è proprio il tema della settimana europea della mobilità di quest'anno condividere lo spazio per cambiare le strade o forse anche viceversa cambiare le strade per poter condividere lo spazio pubblico da questo punto di vista quindi la strategia sull'urbanistica tattica rientra all'interno della visione di Bologna Città 30 non a caso il cosiddetto pay off il sottotitolo se vogliamo di Bologna Città 30 è più spazio alle persone questo è l'obiettivo che poi abbiamo declinato si è parlato molto stamattina anche di piazze scolastiche di bambine e bambini tra le tante declinazioni di questa campagna Bologna è Città 30 perché per dare più spazio alle bambine e ai bambini quindi un approccio valoriale semantico rispetto e concettuale rispetto alla Città 30 molto più più largo dei soli 30 km orari tra l'altro non è un caso che le Nazioni Unite abbiano lanciato nel 2021 la campagna Streets for Life Love 30 Strade per la vita Love 30 km orari dando come indirizzo come obiettivo strade a 30 km orari dove le persone vivono camminano pedalano e giocano hanno usato anche il verbo to play giocare quindi con una grande attenzione alla componente anche del tempo libero del divertimento del diritto alla città in particolare per i più piccoli e quindi anche la scelta delle strade a 30 km orari a Bologna che coinvolge il 70% della rete stradale urbana è stata fatta ovviamente con canoni tecnici ma avendo presente anche questa che io trovo una meravigliosa sintesi dove le persone vivono camminano pedalano e giocano e tra l'altro ho trovato veramente illuminante e fatemi dire da project manager di Bologna città 30 anche emozionante vedere come lo scorso 18 giugno il consiglio dell'Unione Europea dei Trasporti che come sapete riunisce tutti i ministri dei trasporti degli stati membri dell'Unione Europea o loro delegati nelle conclusioni sugli obiettivi europei per la sicurezza stradale mette questa frase rileva che lo spazio pubblico è per definizione limitato e che la velocità deve essere adeguata di conseguenza affinché sia garantito l'uso sicuro dello spazio condiviso io trovo veramente questa frase illuminante e in grado di connettere finalmente mobilità e spazio pubblico velocità e condivisione dello spazio stradale in pochissime in pochissime parole e in fondo quindi abbiamo bisogno un po' di di fare questo di ridistribuire in maniera più democratica spazio pubblico che è una risorsa finita da chi ne ha di più da chi ne ha acquisito di più nel corso dei decenni dai tempi della motorizzazione di massa cioè le auto a chi ne ha di meno potremmo dire i pedoni ciclisti i trasporti pubblici in realtà mi piace dire le persone quindi più spazio alle persone anche per attuare mi avvio a concludere quello che in realtà già ci direbbe il nostro codice della strada se noi ci chiediamo cos'è di chi è la strada probabilmente quasi tutti risponderemo con l'immagine di sinistra è il luogo in cui circolano e parcheggiano le macchine in realtà già oggi l'articolo 2 del codice della strada darebbe ben altra definizione la strada è l'area d'uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni veicoli e comprese le bici e animali ecco io credo che l'urbanistica tattica ci aiuti anche a colmare un po' il divario fra la realtà e la normativa ma soprattutto fra la realtà e non solo gli obiettivi ma anche io credo le speranze di una migliore vivibilità delle aree urbane da parte delle persone che le abitano vi ringrazio grazie mille e penso solo che Yanira ci voglia salutare un attimo così concludiamo la mattinata grazie mille veramente a tutti i relatori allora grazie a voi non vi rubo più di un minuto perché secondo me siamo andati molto lunghi e secondo me le pancia al momento hanno la priorità su tutto l'unica battuta che mi viene da fare è che questa tavola rotonda si intitolava punti di attenzione nella realizzazione e gestione degli interventi di urbanistica tattica io dove ridefinirla adesso il titolo che gli direi è a che punto siamo nel senso che a me sembra che da questi ultimi interventi ci sia stato veramente uno scambio sincero di tutta una serie di esperienze di chi di chi ha più esperienza chi più avanti nel percorso e chi è meno una voglia di scambiarsi anche le difficoltà le attenzioni che un percorso come questo che come avete rivedito voi oggi è complicato a tempi molto dilatati e condiviso e collaborativo e transdisciplinare e intersettoriale dentro e fuori l'amministrazione ha bisogno chiaramente di in che modo rendere più legittimo essere protocollato essere oggetto di maggiore attenzione quindi grazie per la partecipazione a tutti e spero che momenti come questi di scambio ci siano anche nel futuro e grazie agli organizzatori buon pranzo a tutti grazie 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 a tutti